Buongiorno a tutti, ci troviamo nella seconda, anzi nella penultima fase di birrificazione che consiste nell'imbottigliamento, dopodiché ci sarà la rifermentazione in bottiglia e poi la parte proprio finale sarà la bevuta finalmente tra qualche settimana. Questo è il fermentatore a cui abbiamo aggiunto, vi do anche io riflesso, molto più magro del solito perché la deformazione della parete del fermentatore, abbiamo aggiunto materiale fermentescibile, una piccola quantità di lievito per la rifermentazione, è arrivato anche il masto, questa è la riempitrice delle bottiglie, buongiorno, e qui avverrà la tappatura con sistema pneumatico, le bottiglie verranno stoccate in questa locazione, c'è qua Sergio che ci sta aiutando, grazie, saluto agli amici, diventerai famoso. Sì, grazie.